Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e il prorettore dell'Università di Teramo Dino Mastrocola hanno firmato la convenzione per la concessione triennale di tre borse di studio a favore di laureati nell'Ateneo Terramano per lo studio, la ricerca e la produzione dei contributi su temi di interesse del Consiglio regionale rispetto alle funzioni assegnate dall'Unione Europea. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il presidente della Commissione Politica Europea Luciano Monticelli ed il professore Andrea Ciccarelli dell'Università di Teramo. Borse triennali per tre studenti meritevoli attraverso un bando che farà l'Università insieme agli uffici della Presidenza del Consiglio non è una novità ma c'è una novità in questa convenzione anche previsto la formazione del nostro personale presso questa facoltà altamente specializzato che studia il diritto europeo in rapporto e in ricatuta con la legislazione regionale e nazionale. Una grande attività per la quale anche il Consiglio regionale si va specializzando soprattutto perché abbiamo questa imposizione di rispettare regolamenti e direttive europee. Ma non solo partecipiamo attraverso la quarta commissione di cui è presidente il collega Luciano Monticelli alla formazione della normativa europea. Questo ci occorre e ci serve per fare in modo tale che le nostre imprese, imprese abruzzesi, la nostra cultura, il mondo del sociale ma tutte le attività non trovino una griglia troppo stretta come ricaduta di normativa europea. Le ricadute, come diceva il Presidente, sono legate anche alla formazione, quindi anche di neolaureati o laureandi che hanno la possibilità di toccare con mano il mondo che hanno studiato all'interno della facoltà di scienze politiche, di giurisprudenza e di dare il loro contributo a tutto il percorso normativo. Questo è collegato all'osservatorio europei all'interno dell'Università di Teramo ma anche a strumenti che noi chiamiamo di terza missione tipo gli spin-off. Quindi sono degli strumenti che avvicinano i nostri laureati al mondo del lavoro e forniscono al mondo delle imprese, alle istituzioni, dei servizi.